Mino Borracino, assessore regionale pugliese allo sviluppo economico, annuncia con soddisfazione partono i primi dieci posti letto di riabilitazione fisiatrica all'ospedale di Grottaglie. Il nostro impegno in favore della sanità pubblica in Puglia continua. Riteniamo infatti importante rafforzarla preservando e potenziando i servizi ospedalieri ma anche quelli territoriali di riabilitazione. Apprendiamo con soddisfazione che presso l'ospedale pubblico San Marco di Grottaglie finalmente dai prossimi giorni sarà possibile il ricovero nella riabilitazione fisiatrica grazie all'attivazione dei primi dieci posti letto e infatti giunta proprio nella giornata di ieri l'autorizzazione dei codici regionali che permetteranno la partenza del servizio. Dunque oltre a garantire la permanenza dei reparti adesso in funzione compresa l'ortopedia e la radiologia di cui c'è stato un gran parlare in questi giorni parte anche questo servizio a cui seguiranno altri dieci posti letto nella stessa branca e quelli di riabilitazione cardiologica e respiratoria. La nostra attenzione conclude così Borracino e altresì rivolta alla ristrutturazione dei servizi di emergenza urgenza 118 compreso e dalla riorganizzazione dei pronto soccorso in provincia di Taranto opera necessaria a decongestionare il Santissima Annunziata fortemente in affanno a causa delle troppe emergenze.